Presidente, a chi giova aver chiuso la ex SR83, arteria di vitale importanza per il turismo nella zona del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molisa? No, non giova assolutamente a nessuno. Però dobbiamo rimettere ordine in questa gran confusione che si sta facendo. Il provvedimento è stato emanato dal dirigente perché è unico responsabile della sicurezza e della gestione delle strade provinciali. Lo ha fatto sicuramente non col mio assenso, ma col mio dissenso, ma che non è potuto andare oltre. A tal proposito voglio ricordare, e qui l'informazione deve essere corretta, che lo scorso anno, benché avesse protestato tutta la Regione, la Statale 17 rimase chiusa tre giorni per ordine del dirigente Anas. Benché il Presidente della Regione avesse fatto le sue pressioni, chiunque in qualche modo intervenì per cercare di... per tentare la riapertura della strada. Ma l'esito fu lo stesso. A ricordare il vero va anche precisato che lo stato delle strade impone una manutenzione urgente. Urgente perché si possono chiaramente rimuovere i stati di pericolo che in qualche modo rappresentano la preoccupazione e lo stato chiaramente di ansia, che probabilmente tutto il settore viabilità della provincia vive, alla luce anche di quello che è accaduto recentemente. Detto questo, per quello che mi riguarda ho la coscienza a posto, ho fatto quanto non ha mai fatto nessuno nella provincia dell'Avila. In meno di un mese ho fatto elaborare il bilancio, l'ho approvato, in una giornata che è quella di ieri, parere dell'Assemblea dei Sindaci, chiamati uno per uno, e ringrazio il rappresentante di Villetta Barrea, l'amministrazione, e l'amministrazione pescassiare le uniche due presenti dell'Alto Sangro, perché hanno consentito quindi il raggiungimento del quorum e il parere espresso sul bilancio all'unanimità. A seguire il Consiglio Provinciale degli Stati Uniti ha approvato definitivamente il bilancio, a seguire ancora il settore finanziario mi ha consentito la decretazione d'urgenza per l'assegnazione delle somme al settore viabilità. Questi ricori, questi termini, queste tempistiche, la provincia non le ha mai conosciute. Da ieri sera alle 17, il settore viabilità aveva le facoltà di acquisto, di impegno di spesa e tutto quello che è necessario per arrivare all'esecuzione dei lavori necessari. Questo è quello che ho potuto fare con il massimo impegno, con la massima attenzione, con la massima disponibilità, avendo anche la disponibilità di tutto il settore, viabilità e amministrativo della provincia. Ecco, Presidente, è accusato da più parti, soprattutto nella zona del parco, da alcuni sindaci che ritengono che la sua gestione sia poco efficace e guardi più con un certo interesse e attenzione invece l'area di Roccaraso, Pesco Costanzo e Rivisondoli. Questo è un atteggiamento che non fa onore alla politica, che non fa onore a un sindaco, a qualsiasi amministratore lo esprima, perché è qualunquismo, è generalizzazione, è approssimazione sicuramente. Se avessero ben preso in considerazione lo stato dell'arte, avrebbero potuto notare che proprio sul tratto stradale io ho sollecitato l'inizio di alcuni lavori, il rifacimento di alcuni tratti, che per via di quello che ho detto prima, cioè di quando è stato possibile svolgere ieri, quindi rendere esecutiva la disponibilità finanziaria, saranno possibili ulteriori impegni di spesa per continuare quel tipo di azione. Sì, però Presidente, lei è accusato di non aver fatto qualcosa prima, che lei adesso stia facendo queste cose, sicuramente è vero ed è acclarato dagli atti, ma ecco, magari qualche mese fa, insomma, il suo atteggiamento, secondo coloro che insomma non la vedono nello stesso modo, non sembra ci sia stato un impegno, come dire, costante su questa tematica. In realtà le strade versano in queste condizioni da tanti anni, come lei sa bene. Infatti, da tanti anni ha detto bene, tutti i mandi sui quali si sono verificate le crepe e poi a seguire le voraggini, sono tutte sostanzialmente zone per le quali la manutenzione viene eseguita da anni, per le quali non c'è stata mai questo tipo di reazione accanita che c'è stata. Purtroppo l'amministrazione, qualsiasi amministrazione, compreso quella degli amministratori che insomma in qualche modo rappresentano questa sorta di rabbia, questa sorta di risentimento, parla per bocca di atti, non parla per bocca di ciarlatani, per cui in qualche modo occorrerà comprendere che la vita tecnica di un'amministrazione provinciale, ma di tutte le amministrazioni provinciali del territorio italiano inizia con la disponibilità del bilancio in vigore fino al 31-12. Io questo è quello che sono riuscito a fare col massimo impegno e questo è quello che non ha mai fatto nessuno nella provincia del Lago. Le altre tre province abruzzesi, cioè Teramo, Pescara e Chiedi, il bilancio ancora non lo approvano. In sostanza quale sarà il futuro di questa strada? Ma intanto c'è stato un passato che è durato quasi un anno, perché questa dal 7 agosto 2017 è stato decretato il passaggio all'ANAS. Circostanza che tra l'altro a noi in qualche modo ha pure rassicurato in termini di prospettiva, in termini di programmazione poi degli investimenti, che invece poi in qualche modo abbiamo dovuto rivedere nella programmazione e reintrodurre. Accusiamo un ritardo impressionante nel passaggio alla strada, ma anche gli operatori e tutti gli amministratori locali dell'area parco sapevano bene che questa strada, già da quest'inverno, sarebbe stata poi trasferita all'ANAS. Circostanza non avvenuta e l'ANAS purtroppo continua a glissare su questa obbligazione che deriva da un provvedimento legislativo, non da un accordo o da una semplice intenzione. Io sto sollecitando proprio ANAS Roma per questo tipo di trasferimento. E la stessa cosa la sto facendo per la strada che collega Villetta Barrea a Scanno e quindi poi l'area Peligna. Cosa si sente di dire a quegli operatori turistici, ristoratori, gli albergatori che in queste ore stanno soffrendo a causa di questo provvedimento e che quindi impedisce il transito di tanti motociclisti? Sappiamo bene che questo è il periodo di maggiore affluenza. Io mi sento di dire che devono avere fiducia e un po' di pazienza perché purtroppo io la promessa di poter risolvere velocemente questo problema non mi sento di farla. Mi sento invece di dire che sarò costantemente impegnato a insistere sul settore soprattutto dopo averlo messo nelle conseguenze di poter acquistare cartellonistica quindi tabellonistica stradale e di poter acquistare i materiali necessari per le riparazioni delle strade. Io penso che sia un problema che si scoscriverà a pochi giorni però fare questo significa chiudere almeno questo capitolo in questa fase per avere tutta la stagione estiva in assoluta tranquillità. Io penso che se ci diamo da fare tutti insieme col buon senso e con la buona volontà non con le dichiarazioni pubbliche o di proclami sostanzialmente andremo a fare qualcosa di molto più importante e di più concreto.